Eccoci qua amici della Muay Thai. Allora, oggi sorpresona, torniamo ad avere con noi il professor Cimadoro da Londra, che era da un po' che non facciamo video insieme e sono sicuro che vi mancava. Allora, argomento di oggi, mi avete martellato esageratamente, quindi mi sono stuffato come sempre, mi dovete prendere per sferire i video. Il tema di oggi sono questi maledetti elastici. Questi elastici li usano anche per fare colazione. Chiunque si inventa una puttanata su YouTube, sul web per gli allenamenti con gli elastici e probabilmente arrivano da altri sport, eccetera. Cosa ne pensiamo degli elastici? Allora, come sempre, io dirò la mia opinione pratica di cosa penso di questi elastici, di come li conosco e poi lascerò la parola al professor Cimadoro che darà come sempre il suo supporto dal punto di vista scientifico e ci darà anche magari delle informazioni per comprendere. Una prima cosa che voglio dire, quando mi chiedete queste cose, quando ci chiedete queste cose, perché questo riguarda tutti noi, non è che nessuno di noi ha la sicurezza che qualcosa sia buono o meno. Semplicemente siamo abituati a ragionare, attaccare il cervello, fare dei ragionamenti. Ognuno di noi ha delle sue esperienze e ha la possibilità di valutare qualsiasi cosa, quindi prima di tutto fate un ragionamento voi e innanzitutto mettete in dubbio qualsiasi cosa vedete, ragionate col vostro cervello e prendete delle decisioni. Quello che faremo noi in questo video è darvi delle argomentazioni, darvi dei ragionamenti, darvi dei dati per poter prendere una decisione e dire se secondo voi questi cacchio di elastici sono utili o non sono utili. La prima domanda è, ma come mai adesso, proprio adesso mi state martellando, state martellando tutti i costi elastici? Perché, chiedetevi prima di tutto questo, perché ci stanno martellando dal punto di vista mediatico, stanno facendo un'azione di marketing, tante cose che escono. Se vedete sui social c'è scritto sponsorizzato. Che cosa significa? Significa che ce li stanno cercando di vendere questi cacchio di elastici, quindi è giusto che ognuno fa il suo lavoro e ognuno è libero di guadagnarsi la pagnotta come gli pare, quindi anche vendendo elastici se è il caso. Ma innanzitutto la prima domanda che dovreste farvi è, sta a vedere che, e vengo subito alla conclusione mia, sta a vedere che è una moda questo elastico e quindi sta a vedere che il punto principale è venderci gli elastici? Poi veniamo anche alle considerazioni tecniche, veniamo a capire perché secondo me questi elastici sono prettamente qualcosa che vogliono venderci. Allora, facciamo, facciamo, io ho fatto una banale ricerca sui motori di ricerca, per esempio, e cosa ho visto sui motori di ricerca? Adesso ve lo faccio vedere, cosa ho visto? che non è che ci andava una... Ho fatto una ricerca, prima di tutto l'ho fatta su Google e su Google cosa mi è uscito? Allora, abbiate pazienza, solo un secondo che vediamo cosa mi è uscito su Google. E intanzitutto, allora, intanto non ti ho lasciato la parola neanche per salutare, scusami Giuseppe. Vai tu, ciao Roberto, è un piacere discutere ancora di allenamento, soprattutto quando riguarda l'esport da combattimento e la Muay Thai. Allora, prima ricerca che ho fatto, si vede Giuseppe? Sì. Ok, ho guardato, adesso non voglio entrare perché sennò mi dicono che poi ce l'ho sempre qua, ma il primo video, già vedete qua, il primo video, il quarto video, sono già di un famoso YouTuber che sponsorizza questi... deve... è chiaro che chi vende gli elastici li avrà commissionati video e lui li ha fatti. Qua è sponsorizzato e sta martellando non solo voi, ma sta martellando anche me, sto cristiano qua, da un po' che è da un camp, non so che camp è qui in Thailandia, che martella con sti elastici... Ok, siamo occupati e ho deciso di fare il video perché ho visto che tra i tanti video ce n'è, per esempio, uno in cui chiaramente dice, fa vedere, parla degli elastici e questo... questo qua si chiama, è Eric Muay Thai, io non lo conosco, però fa tutti i video sulla Muay Thai, è un inglese e fa vedere, fa uno schema abbastanza tamarro dove mette da una parte fuoco, dall'altra la merda, mette il coso sulla merda, quindi lui è l'unico contrario a questi elastici che ho trovato sul tubo, su YouTube. Qui, e qui, qui mi sono deciso, ho detto c'è da fare il video, perché questo che vedete qui invece è il camp di Namsak, Namsak Noi, che sapete che Namsak Noi, il padre si chiamava Namsak, lui si chiama Namsak Noi, per non chiamarsi uguale, Noi vuol dire figlio, piccolo, insomma il seguito di Namsak. Namsak Noi, per chi conosce la Muay Thai, adesso tolgo la condivisione, torniamo a noi, per chi conosce la Muay Thai, sa bene che è un... Se è un personaggio, lasciate stare che in quel camp lì non c'è più lui, è andato via nel 2017, ma è un camp che ha il suo nome. Namsak è, per chi è nel mondo della Muay Thai, non può non conoscerlo, gli italiani non possono non conoscerlo perché Anka ha fatto l'ultimo match, l'ha fatto in Italia, non sto a dire con chi perché non voglio parlare né bene né male di nessuno, Ma ha, è uno dei pochi thailandesi che aveva, che ha, in un'era importante dove c'era gente forte, ha chiuso la carriera con il 95% di vittorie. E' un campione che non ha bisogno di presentazioni, ha fatto circa 300 match, era al Port Ramuk, quando Buacao era ancora un ragazzino, iniziava, quando Buacao iniziava al K1, lui era incontrastato, ha battuti tutti quelli che c'erano da battere, gli ha battuti. Uno che ha il 95% di vittorie. Allora io mi chiedo, se un camp come quello di Namsak Noi, non c'è più lui, d'accordo, ma per attirare gente, mette gli elastici alle gambe e alle braccia, c'è da parlare dell'argomento perché se no andiamo a fine. Che vuol dire che questa pubblicità, questo argomento attira l'attenzione, è diventata una moda e si rischia che la gente vada dietro perché giustamente anche io quando vedo Namsak dico fammi andare a vedere, caspita nel camp di Namsak Noi fammi andare a vedere. Allora, adesso veniamo al ragionamento che ho fatto io nel concreto e ho detto questo. Perché questo elastico non mi piace assolutamente? Perché gli elastici non mi piacciono assolutamente? Attenzione, possono essere utili. Io li ho visti la prima volta nel camp quando un ragazzo doveva fare una riabilitazione della spalla e li ho trovati decisamente utili. Il fisioterapista gli aveva dato dei lavori da fare e mi sembravano molto utili. Poi ho visto per esempio Celia Maryson ha fatto un video con gli elastici per lo stretching e anche lì mi sembrano delle idee interessanti. Ma veniamo a quello che invece ci stanno facendo vedere, ci martellano sui social, questo video di tirare calci e pugni con gli elastici. Allora, prima cosa, sono l'antitesi di quello che noi dobbiamo fare. Noi lavoriamo tutti i giorni e impazziamo. Io rompo le palle al professor Cimadoro spesso per chiedergli se è una cosa, la faccio così, la faccio in quel modo secondo lui, darmi dei dati tecnici per ragionarci sopra, perché quello che è il mio scopo è che i colpi dei miei ragazzi abbiano la maggiore esplosività e facciano maggiori danni quando arrivano a bersaglio. Quindi se voi attaccate un attimino il vostro cervello, è una cosa semplicissima, banale. L'elastico, facciamo solo la partenza del pugno, è forte. Quando inizio a tirare, più lo allungo e più mi tiene. Quindi cosa fa? Fa il lavoro opposto, sicuramente non potrò esplodere, perché quando sono arrivato alla fine ho la resistenza maggiore. Quindi è l'opposto di quello che dovrei fare. Poi c'è un altro fattore, se vedete poi, non ve lo faccio vedere perché non voglio fare pubblicità cattiva, andatevi a vedere il video di Namsak Noe e di altri. Attaccato ai piedi, cosa succede? Vedete che perdono l'equilibrio che hanno normalmente. Questo succede, quindi togliendogli un equilibrio che hanno, che già è difficile perché noi siamo in uno sport dove dobbiamo calciare con una gamba e una deve sostenere. Quindi già siamo in equilibrio e dobbiamo esplodere con il nostro, con il calcio, con la ginocchiata all'arrivo. Con l'elastico nella gamba mi tolgo l'equilibrio, cosa faccio? Vado il nostro corpo per compensare, va a usare degli altri muscoli ovviamente per tenere l'equilibrio, perché l'abbiamo, è come un aereo che sta cercando di decollare e gli attaccate un elastico e gli tenete un'ala. Cosa deve fare? Deve fare qualcosa che non è naturale, che non è il suo lavoro, quindi gli andiamo a creare un lavoro che non ha niente a che vedere con il lavoro che dovrebbe fare. Di conseguenza, qual è l'utilità? Perché lo fa? Stanca, sì, è vero, stanca. Namsak Noe fa vedere che lui continua, va 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 va, c'è un allenatore lì, non so chi sia, va 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 va, urla con gli elastici, si tengono uno con gli altri e si stancano di più. Si vede che i tagli, i ragazzi si stancano, ma certo che si stancano, per forza che si stancano, se anche gli faceva portare dei secchi di cemento mentre calciava e si stancavano, ma è normale, ma non è il fatto che si stanchi vuol dire che è positivo. E questo lo dico anche agli atleti, perché tante volte anche i miei ragazzi, Mattias, Carlo, tante volte, eh ma oggi non ci siamo stancati come l'altra volta, ma non è che perché sei stanco ti sei allenato bene. Sì, nella tua testa se sei morto e sei stanco sei convinto che, ma c'è il giorno che ti ammazzo, che arrivi stanco e il giorno che no, perché abbiamo fatto determinati lavori dove mi serve che non eri e non arrivavi stanco. Quindi, in buona sostanza, a mio avviso, gli elastici, ragazzi, lasciateli stare, se ve li spingono perché li devono vendere, vabbè, comprateli, teneteli lì, li potete usare per la riabilitazione, per lo stretching, per altro, ma non rovinate. Non rovinate, prima di tutto i ragazzi metteteli a posto la tecnica, fatta la, mettendo a posto, dopo che avete messo a posto la tecnica, non rovinategli agli elastici, fate del potenziamento che ci sono metodi di gran lunga migliori. Termino, lascio la parola al professor Cimadoro che ci darà sicuramente delle informazioni più diverse da quelle che ho dato io, che sono semplicemente pratiche, cioè quello che penso io, il ragionamento che ho fatto io e poi quello che è... Ah, finisco con una battuta perché la prima volta che ho chiesto a Giuseppe Cimadoro l'utilità, che abbiamo parlato degli elastici, mi ha detto sono utilissime per chiudere i pacchi, salvo che si rompa, perché se li tiri troppo si rompono. E quindi ho detto è da fare un video per forza. A te la parola. Sì, Roberto, mi sembra che tu sia molto appassionato a questo argomento, quasi arrabbiato contro l'utilizzo degli elastici. Insomma, scherzi a parte, sì, è vero ti dissi, l'elastico forse è utile per spedire i pacchi. Ovviamente c'era una parte di scherzo all'interno. Io non sono contro nessun tipo di esercitazione che venga utilizzata per migliorare la performance sportiva. Questo sia un elastico, un bilanciere, un plinto per saltarci sopra, una corda, un qualsiasi tipo di mezzo di allenamento. La problematica che si verifica è che dal momento in cui si decide di utilizzare un esercizio bisogna avere ben presente perché questo esercizio viene usato. L'elastico è sicuramente, ultimamente, uno di quei mezzi di allenamento che viene usato perché nell'allenamento sportivo c'è anche una componente di moda che viene ovviamente dall'utilizzo di quel tipo di mezzo di allenamento di un campo piuttosto che di un campione o di un allenatore che ha una buona visibilità sui media, soprattutto al giorno d'oggi e quindi magari viene poi utilizzato senza saperne le ragioni. Questa è la cosa che più che altro dovrebbe preoccupare un tecnico, un allenatore, non tanto il fatto di dover classificare un esercizio come sbagliato o corretto, ma il fatto di usare un esercizio senza sapere perché quell'esercizio viene utilizzato. Anche nell'utilizzo degli elastici c'è comunque una fase dell'allenamento, c'è un momento dell'allenamento, una fase della pianificazione dove una resistenza elastica può anche avere un senso. Personalmente da un punto di vista della preparazione fisica non ritengo l'elastico un mezzo di allenamento che possa incidere in maniera diciamo specifica sul miglioramento della prestazione sportiva di un akmuai che possa essere per esempio sferrare un colpo, una ginocchiata, un calcio o un pugno, in quanto come tu accennavi prima correttamente per rimanere in maniera diciamo per usare termini pragmatici, non è un tipo di materiale che permette di far funzionare il calcio, il pugno o la ginocchiata nel modo in cui naturalmente funzionerebbe da un punto di vista meccanico, ma anche da un punto di vista fisiologico. Quindi sicuramente c'è una componente di moda quando si usano esercitazioni con attrezzi diciamo non consoni o comunque che vengono semplicemente diffusi tramite i social e poi c'è anche una componente di mancata comprensione di quello dell'effetto che viene provocato da un attrezzo che viene utilizzato, ma questo si applica a qualsiasi tipo di esercitazione, ma anche un bilanciere, la quantità di carico eccetera eccetera. Quello che tu prima hai detto è assolutamente corretto, un elastico è nient'altro che un attrezzo dove all'inizio la resistenza è bassa, più tiri e più la resistenza aumenta, ok? Quindi poi ci sono diverse varietà, gli elastici perché ci sono quelli che offrono una resistenza molto blanda ed altri elastici che già quasi subito dall'inizio del movimento offre una resistenza che è anche abbastanza importante. Ma al di là di quello poi bisogna anche classificare altre due componenti, una è quella tecnica e una è quella prettamente atletica. Adesso l'elastico magari può essere usato per una funzione di miglioramento tecnico o di peggioramento tecnico, dipende da come viene usato. E l'elastico può essere anche usato per migliorare invece una componente atletica o peggiorare la componente atletica, dipende. Nella maggior parte delle situazioni nell'ambito della preparazione fisica la risposta corretta, forse è giusto dire così, è dipende. Dipende dal contesto, dipende dal tuo obiettivo, dipende dalle caratteristiche dello strumento che stai usando eccetera eccetera. Soffermandosi da un punto di vista tecnico, non abbiamo molti dati da un punto di vista scientifico, senza entrare in dettagli magari incomprensibili, non abbiamo molti dati che ci dicano se effettivamente l'elastico crea una perturbazione a livello tecnico tale da creare una diminuzione della performance tecnica. Ci si può attendere, ci si può immaginare, basandosi ovviamente anche sull'osservazione empirica, l'occhio di un allenatore esperto, che il movimento che viene effettuato viene in un certo senso snaturato. Ed è chiaro che allenare continuamente un gesto tecnico che non è eseguito nella maniera corretta, da un punto di vista coordinativo, non è proprio la cosa che l'allenatore ricerchi. Anche lì poi dipende da che tipo di elastico viene usato e poi c'è anche insomma un margine di variabilità, perché anche quando tu fai delle esercitazioni tecniche, per esempio in modo naturale, senza nessun tipo di vincolo, ci sono dei margini di variabilità. È molto difficile che tu riesca ad effettuare un gesto sportivo identico continuamente. Anzi, in realtà la ricerca ci dice proprio quello, se tu effettui un gesto tecnico che conosci molto bene e sei un atleta di altissimo livello o comunque anche un operatore, per esempio, che martella tutti i giorni e quindi è molto bravo a fare quel gesto, le traiettorie di questi movimenti non saranno quasi mai identiche. Ma il punto di arrivo, quindi lo scopo, il fine di quell'azione è invece sempre molto molto preciso. Quindi ci sono delle ricerche, diciamo, che sono state fatte veramente all'inizio, quando la teoria ovviamente del movimento fu all'inizio di questa esplorazione, dove dei carpentieri molto abili con l'uso del martello erano in grado di colpire esattamente nello stesso punto ogni volta, ma la traiettoria era leggermente diversa ogni volta che c'era un ciclo dove si martellava a un certo punto. Quindi questo indica che già di suo la tecnica ha una variabilità intrinseca. Adesso cosa possa creare l'elastico da un punto di vista tecnico? In realtà non si sa, possiamo soltanto fare delle inferenze, nel senso che ci basiamo su altre teorie che riguardano il controllo del movimento o la parte tecnica della gestualità sportiva e in maniera, diciamo, ragionata, cercare di intuire fino a che punto l'elastico possa danneggiare un gesto tecnico. Per quanto riguarda la componente atletica, in genere bisogna sempre fare riferimento ai principi di allenamento. È molto difficile che tu in allenamento faccia un'esercitazione o segua un metodo di allenamento perché si hanno dei dati diretti da un punto di vista scientifico, perché è impensabile dover fare un esperimento per ogni singolo esercizio, per ogni singolo metodo di allenamento, per ogni carico, per ogni volume di lavoro. Cioè è una cosa improponibile oltre che a essere anche inutile perché la maggior parte dei lavori che si fanno in allenamento hanno delle basi fisiologiche e quindi ci sono poi dei principi che vengono rispettati sulla base di dati che hanno magari una teoria un po' più ampia alle spalle senza doverti dare un dato diretto, ma ti aiutano a selezionare delle esercitazioni che siano corrette oppure no. Tu dicevi che l'elastico è l'antitesi di quello che in realtà viene effettuato quando un combattente deve sferrare un colpo. Sì, in un certo senso è vero, ma questo perché la prima cosa che uno dovrebbe fare come allenatore quando seleziona gli esercizi è quello di rifarsi ai principi della corrispondenza dinamica che non sono nient'altro che dei criteri che sono stati proposti a suo tempo da ricercatore e anche allenatore da campo, dove ci indicano quali criteri devono essere rispettati per far sì che un esercizio possa essere selezionato correttamente. Qua li vedi nello schermo, i principi di corrispondenza dinamica sostanzialmente sono cinque, uno è definito come dinamica dello sforzo, l'altro la velocità di produzione della forza e la sua tempistica, poi ovviamente c'è il range articolare, quindi la direzione del movimento ma anche l'amplitudine stessa, il punto in cui durante il movimento la forza è più elevata e anche la modalità di contrazione muscolare. Adesso magari per qualcuno questi termini o questi criteri sono un po' più familiari, per altri un po' meno, e quindi c'è la definizione nell'altra parte della diapositiva, dove come dinamica dello sforzo si intende che quando tu effetti un esercizio la forza che viene applicata deve essere almeno uguale al gesto di gara o comunque deve tendere ad essere superiore per poter appunto creare un sovraccarico che anche esso rispetta il principio del sovraccarico e della progressione del carico. La velocità di produzione della forza tempistica ha un po' a che fare con la forza esplosiva, quindi non è tanto quanto forte tu, quanta forza tu riesci a produrre, ma in quanto tempo tu la produci e soprattutto quali sono le caratteristiche di quel movimento quando stai generando tensione muscolare. Direzione amplitudine del movimento, insomma è un criterio abbastanza semplice da capire, se tu stai sferrando un high kick avrai sicuramente bisogno di una mobilità articolare più importante rispetto a quando stai tirando un low kick. La regione accentuata della produzione di forza è durante un movimento, per una serie di ragioni ovviamente meccaniche, c'è un momento durante questo movimento dove la forza che viene espressa è alta, quindi si tendono anche a selezionare degli esercizi che far sì che come caratteristica si crei questa regione accentuata di produzione della forza nel punto in cui serve. Faccio un esempio molto banale, se tu stai facendo la panca piana per esempio, quando tu stai sollevando il bilanciere c'è un punto che è chiamato sticking point, dove si crea una leva svantaggiosa e quello è il punto in cui se tu riesci a sollevare il carico che stai cercando di sollevare e poi dopo riesci a completare il movimento. Quindi tendi magari a selezionare l'esercizio che alleni quella fase del movimento dove l'impegno neuromuscolare deve essere altissimo perché bisogna vincere quella regione dove la produzione di forza è accentuata. E infine il regime di contrazione muscolare che è conosciuto ovviamente dalla maggior parte dei naturali da campo come contrazione isometrica, contrazione eccentrica e contrazione concentrica. Quindi in base a questi principi definiti di corrispondenza dinamica, quindi vuol dire che c'è una certa corrispondenza tra l'esercizio che stai effettuando in base a queste definizioni e quello che vuole ottenere che tiene conto delle caratteristiche del gesto sportivo. Quindi questa è proprio la prima cosa che deve essere svolta. Poi per quanto riguarda l'elastico in maniera... Scusami, scusami se ti interrompo, ma già sulla valutazione di questo mentre leggevo e ci pensavo sopra sono più che convinto che l'elastico faccia l'opposto del mio gol che è avere la massima esplosione quando trovo il corpo dell'avversario. Sì, ma infatti una cosa interessante che volevo farti vedere adesso è che poi dipende perché se cerchiamo nella letteratura scientifica per esempio c'è uno studio del 2018 dove hanno usato di atleti con un bagaglio sportivo di kickboxing di taekwondo, hanno testato il middle kick e hanno usato due protocolli di riscaldamento per testare l'effetto di potenziamento dopo il riscaldamento. Adesso senza entrare nei dettagli per quanto riguarda il cosa sia il potenziamento dopo il riscaldamento anche perché ha delle imprecisioni questo studio in quanto veniva in passato definito post-activation potenziamento che è ovviamente questo potenziamento che viene promosso da un'attività ad alta intensità alla fine di un riscaldamento che viene poi successivamente definito in modo diverso anche un po' più corretto perché comunque ha dei fattori che sono diversi, vengono addizionati dei fattori oltre a quelli della classica PAP così come veniva definita allora, questo comunque è un altro discorso. Quindi hanno fatto due protocolli di riscaldamento dove alla fine di un riscaldamento in comune di questi atleti che sono stati ovviamente randomizzati per minimizzare dei fattori di confusione, un gruppo usava una banda elastica, tre serie da dieci ripetizioni sferrando i calci alla massima potenza con 90 secondi di recupero tra una serie e l'altra, mentre l'altro gruppo dopo aver fatto lo stesso identico riscaldamento iniziale effettuava dei middle kick senza nessun tipo di vincolo. Quello che hanno trovato è che il gruppo che aveva usato la resistenza elastica era in grado di migliorare la velocità del piede rispetto al picco di velocità del piede del gruppo che non aveva usato la resistenza elastica e questo si vede su questo grafico sopra la linea orizzontale in quanto sull'asse delle Y, chiamiamolo così, quindi quello a sinistra, c'è la variazione di velocità rispetto al gruppo che non usava la resistenza elastica e si vede che chi usava la resistenza elastica nel test successivo era in grado di migliorare la velocità del piede al momento dell'impatto. Cosa intendevano in questo studio per velocità del piede? Non capisco cosa intendevano. Praticamente loro hanno messo dei marker su alcuni punti anatomici standardizzati della gamba, per esempio al ginocchio, al malleolo e con delle videocamere hanno misurato a che velocità questo marker si spostava nello spazio quando veniva effettuato il calcio, quindi questo è stato il loro metodo di misurare l'efficacia dell'elastico sulla velocità del piede o di altre articolazioni come l'anca e il ginocchio e hanno trovato che l'elastico aveva un effetto positivo rispetto al gruppo che calciava senza l'elastico. Quindi questo è un primo dato che ci dice se usi l'elastico su quel tipo di variabile c'è un effetto positivo, quindi l'elastico serve. Poi dopo loro hanno anche misurato la quantità di elettricità che passa attraverso le membrane del filo muscolare usando l'elettromiografia di superficie e questo grafico ci fa vedere che rispetto ai tre muscoli che loro hanno misurato, il vasto mediale, il vasto laterale e il retto femorale, il retto femorale che è quello sottolineato con questo rettangolo rosso, era il muscolo che una volta il gruppo che aveva usato la resistenza elastica era in grado di attivare di più rispetto al gruppo controllo che non aveva usato la resistenza elastica, anche con un effetto statistico anche abbastanza importante, in questo caso era riportato con una variabile che viene definita eta squared. Quindi da un punto di vista dell'attivazione elettrica muscolare il retto femorale si attivava di più dopo aver usato l'elastico. Adesso una prima critica a questo studio è che quando uno sferra un colpo alla fine si ritrova ad avere un impatto, quindi una variabile che permette di capire in profondità l'efficacia di un esercizio, di un metodo di allenamento se lo studio è longitudinale, quindi uno nel tempo, io penso che sia quello di misurare la forza d'impatto oppure il tempo di contatto, il tempo di contatto al momento dell'impatto o addirittura ancora meglio l'impulso che è la forza nel tempo, che rappresenta diciamo la gestualità al momento dell'impatto nel tempo e quindi un po' più rappresentativo del parametro di prestazione che uno sta cercando di valutare. Quindi sostanzialmente dal mio punto di vista loro non hanno in questo caso usato una variabile che ci permette di capire se l'elastico rende il middle kick più potente, hanno semplicemente verificato che il piede al momento dell'impatto viaggiano a una velocità superiore ma ciò non vuol dire che il calcio sia poi più potente al momento dell'impatto perché entrano in gioco delle dinamiche che sono completamente diverse, magari ne parleremo in un altro caso. Scusami un attimo, probabilmente loro hanno fatto questo, il gol qual è? Io non so qual era l'obiettivo, se l'obiettivo per esempio era sul taekwondo olimpico o amatoriale dove non devono avere impatto, anzi loro devono controllare il colpo perché devono arrivare solo a toccare perché tu sai che in determinati sport, non il nostro dove dobbiamo fare danni, nella Muay Thai tu più danni fai l'avversario più è facile che vinci, fai punti che vinci, magari il loro scopo perché qui tu hai parlato di velocità, magari il loro scopo era, lo scopo di quegli allenatori che hanno fatto questo studio probabilmente era la velocità ma non l'impatto, non la porta. No, non era l'impatto, io penso che c'è semplicemente un limite metodologico in quello che hanno fatto perché il loro scopo era semplicemente dimostrare che l'utilizzo di bande elastiche alla fine del riscaldamento permette di indurre questo effetto di potenziamento. Il problema è che loro hanno misurato questo potenziamento con una variabile che secondo me non è rilevante per quanto riguarda la kickboxing o il Taekwondo, anche se il ragionamento che tu hai fatto non è sbagliato perché magari nel Taekwondo usare la velocità del piede perché comunque non si ricerca l'impatto come nella Muay Thai potrebbe avere un senso, anche se però non hanno controllato quali sono gli effetti per esempio da un punto di vista tecnico come ne parlavamo prima. Per quanto riguarda invece la parte neuromuscolare, come dicevo, a me non sorprende che il rectus femoris è il muscolo che comunque viene attivato di più dopo aver svolto questa attività di potenziamento usando la resistenza elastica, anche perché è comunque un muscolo multiarticolare rispetto al vasto mediale e il vasto laterale probabilmente è sottoposto a uno sforzo neuromuscolare un po' più prolungato in modo tale da poter generare questo effetto di potenziamento che comunque non è stato testato con la stimolazione periferica e non ci dà la certezza che questo sia un effetto di potenziamento. potrebbe semplicemente essere che la resistenza offerta dalla banda elastica, dall'elastico, permetteva di mantenere questo muscolo sotto tensione per un tempo più prolungato con una leggera tensione soprattutto alla fine del movimento in quanto il rectus femoris è un muscolo biarticolare e ha probabilmente contribuito a migliorare per esempio la temperatura muscolare. Noi sappiamo che la temperatura muscolare è un fattore che è legato al miglioramento della velocità di produzione di forza. Se dovessimo ragionare soltanto sull'elastico, questo qua è un grafico che ci fa vedere quello che tu dicevi prima dove ovviamente lo sforzo in questo caso possiamo sostituirlo con la forza che è richiesta per tirare l'elastico e ovviamente sull'asse orizzontale è riportato il fatto che tu stai tirando questo elastico e come vedi più l'elastico viene tirato e più offre resistenza. Quindi ciò vuol dire che se io uso degli elastici quando sto tirando dei pugni io sto avendo praticamente una resistenza nulla all'inizio del movimento e una resistenza importante verso la fine del movimento comunque senza un impatto anche se volendo l'impatto ce lo puoi aggiungere. La problematica è che quando noi sferriamo un colpo all'inizio del movimento c'è comunque un'attività neuromuscolare molto importante perché bisogna accelerare delle masse e bisogna farlo nella maniera più esplosiva possibile ed è lì un po' l'antitesi di cui tu parlavi e condivido perché all'inizio del movimento è importante che sia fatto in maniera esplosiva e per essere fatto in maniera esplosiva ci sono dei mezzi, dei metodi di allineamento che devono rispecchiare i criteri che riguardano il miglioramento della forza esplosiva. Quindi se io dovessi usare questi criteri e cercare di capire se l'elastico ha un'utilità per quanto riguarda un atleta professionista che vuole migliorare la potenza di impatto di un pugno, di un calcio, di una ginocchiata, per quanto riguarda il primo criterio che è la dinamica dello sforzo, secondo me l'elastico non è in grado di soddisfare questo requisito perché la forza applicata è bassa ma se la forza applicata fosse anche elevata probabilmente potrebbe avere una problematica da un punto di vista tecnico. Per quanto riguarda la tempistica di produzione della tensione muscolare, neuromuscolare anche in questo caso secondo me l'elastico non è appropriato perché il tempo di produzione della forza varia, come si diceva prima, con il comportamento dell'elastico che all'inizio offre una resistenza molto bassa e alla fine offre una resistenza più alta. La direzione, quindi il range of motion, l'ampiazza articolare dipende, non abbiamo delle analisi cinematiche che ce lo dicono, non ci sono studi, almeno che io sappia, non ce ne sono, quindi è anche difficile poter dire serve o non serve quindi lascerei un mi, sì no, non lo sappiamo. Per quanto riguarda la regione accentuata e la produzione di forza, assolutamente no perché il punto di massimo sforzo è l'impatto, al momento dell'impatto è chiaro che tu è lì che stai generando, stai trasferendo l'energia che hai ovviamente generato a partire dall'inizio in cui stai sferrando il colpo e ciò l'elastico non te lo permette e la modalità di contrazione muscolare non è comunque omogenea perché anche lì ci vorrebbero delle analisi cinetiche e cinematiche per capire quando si sferra un calcio o un pugno fino a che punto la modalità di contrazione muscolare si comporta in un modo rispetto ad un altro, quindi sostanzialmente se uno volesse fare un ragionamento per capire qual è il posto di un esercizio all'interno di un programma di allenamento dovrebbe almeno cercare di ragionare su dei criteri che sono associati a l'analisi dell'attività sportiva che si sta effettuando ma ancor più nel dettaglio l'analisi di quel gesto particolare che deve essere poi migliorato. Non sono molto fan di usare il termine specificità, il lavoro deve essere specifico perché sto notando che il termine specificità viene a volte frainteso perché specifico non vuol dire semplicemente copiare il gesto di gara specifico all'interno una serie di ragionamenti tipo quello che abbiamo appena fatto con i criteri di corrispondenza dinamica dove la specificità può essere meccanica può essere cinematica, può essere cinetica, può essere coordinativa quindi gli esercizi sono sempre dei pezzi di puzzle che vengono messi insieme per poi darti un risultato finale quindi con questo uno intuisce immediatamente che non esiste l'esercizio che ti permette di massimizzare la prestazione di un movimento atletico ma ci sono una serie di esercizi che usati con criterio e organizzati rispettando le basi fisiologiche ti permettono il più possibile di sbagliare meno quando il tuo scopo è quello di massimizzare la prestazione del tuo atleta. Allora io terminerei dicendo ancora una cosa su questo argomento che hai finito con la specificità direi che è vero sono d'accordo con te ma sottolineo per chi ci ascolta e chi si fa venire queste idee adesso sono gli elassi domani sarà un'altra cosa che andrà di moda che se sicuramente se voi fate ripetete quello che si farà in gara cioè se cercate di essere negli allenamenti più vicini a quello che si farà in gara è vero che non è sufficiente adesso magari vedremo anche su che cosa ragionare con Giuseppe prima di lasciarci ma per non sbagliare cercate sempre di ragionare su quello che andrete a fare sul ring e che è il ragionamento basico che ho fatto io dicendo e l'antitesi perché dobbiamo esplodere all'arrivo sull'avversario quindi se non volete cadere in errore piuttosto che sbagliare che poi si sbaglia sui ragazzi allora cercate di ragionare su quello che andremo a fare poi ci sono dei concetti di base su cui grazie alla collaborazione con Giuseppe mi permetto di condividere anche con voi così magari lui ci aggiunge qualcosa in merito una cosa che noi abbiamo in questo sport su cui dobbiamo sempre ragionare prima ho detto anche del discorso dell'equilibrio è che noi soprattutto sui calci quindi la Muay Thai come sapete sì abbiamo anche i pugni i pugni li usiamo li alleniamo eccetera però la Muay Thai sono i punti si fanno con i calci bisogna saper calciare quando noi calciamo siamo sempre su una gamba quindi questo è già un concetto che vi può aiutare per poi costruire l'allenamento per poi scegliere anche che tipo di allenamento fare ricordatevi sempre che siete quando loro lavorano quando il colpo arriva sono su una gamba e questo è un fattore da tenere sempre in considerazione ve lo dico nell'ambito degli elastici perché se gli attaccate un elastico alla gamba e gli diciamo gli cambiate l'equilibrio potrebbe darsi io non sto dicendo che questo non ci sono degli studi quindi non possiamo fermarlo con certezza ma posso dire che io non rischierei di andare a toccare l'equilibrio perché l'equilibrio del per esempio nel calcio nella ginocchiata su una gamba è un gesto atletico molto complesso che magari il ragazzo, l'atleta si è formato negli anni e che ha trovato, concedetemi la ripetizione, il suo equilibrio ottimale e andando a lavorare su quello rischiamo di avere un effetto contrario quindi questo per me già è un fattore importante da considerare nella scelta di determinati esercizi rispetto ad altri e poi ripeto ancora all'infinità per non sbagliare ricordatevi sempre qual è poi il gol ultimo dell'allenamento che voi andate a fare perché se a volte ci dimentichiamo questo veniamo attratti dalle sirene della pubblicità che ci propinano determinati allenamenti o altri io prima di farmi attrarre ragiono sempre sul tengo sempre ben preciso quali sono i miei gol cioè perché faccio allenare i ragazzi cosa voglio ottenere così mi è più facile non farmi rapire perché è normale che se ci martellano di pubblicità su una determinata cosa nuova a tutti attira è normale che la novità piace a tutti ci fa guardare quindi tolto dato questo discorso di che siamo sempre su una gamba quali altri fattori di base un allenatore può considerare tenere a mente quando deve scegliere di introdurre una novità o meno perché l'ha vista su un canale o perché gliel'hanno suggerita cosa puoi aggiungere in merito a questo tu? ma la novità viene aggiunta quando tutto ciò che si sta effettuando non è più efficace perché aggiungere esagerare con la variazione dei mezzi di allenamento a lungo termine ti porta a non avere più soluzioni diciamo allenanti per continuare a stimolare il sistema biologico quindi l'allenamento principalmente si basa sull'ampia capacità di adattamento che ha l'organismo umano però è anche vero che se queste variazioni sono troppo frequenti e si cerca di rincorrere appunto la moda o l'esercizio che ti permette di sofisticare l'allenamento al punto tale che non è necessario sofisticarlo fino a quel punto ti limiti negli anni soprattutto se hai la fortuna di allenare un atleta per tantissimi anni a un certo punto ci sarà una stagnazione della prestazione perché hai già comunque esaurito tutti quegli stimoli tutti quegli stimoli che erano degli stimoli molto potenti per adattare il tuo atleta e spingerlo sempre più in là quindi il consiglio è quello di continuare a utilizzare mezzi e metodi di allenamento che sono sufficienti per garantire un miglioramento della prestazione del tipo di atleta che stai allenando e non affrettarsi a dover variare o come dico spesso sofisticare l'allenamento troppo velocemente perché nel tempo vi state eliminando delle possibilità allenanti perché le avete già esaurite in precedenza quindi è un po' insomma bisogna un po' giocare su queste capacità di adattamento e anche stare attenti a non esaurire tutte queste diversificazioni che si possono fare nel tempo quindi non è necessario andare a cercare un esercizio molto sofisticato non è necessario cambiare un esercizio continuamente o abbandonare un metodo di allenamento dopo un blocco di lavoro che magari è di poche settimane in quanto per garantire degli adattamenti che sono resistenti nel tempo a volte ci vogliono dei cicli di allenamento che sono lunghi anche un anno quindi probabilmente io posso pensare di inserire esercitazioni nuove dopo diversi diversi cicli di allenamento nel tempo questo anche per dare un diversivo con ciò non sto dicendo che bisogna fare sempre le stesse cose sto dicendo attenzione perché c'è sempre rovescio della medaglia la variazione dell'allenamento è anche come mia opinione personale uno degli stimoli più potenti che uno possa avere per spingere sempre più in là la prestazione atletica di un atleta ma nello stesso tempo il rovescio della medaglia è che variare troppo rischi di ritrovarti senza soluzioni nel tempo quando poi diventa necessario sofisticare l'allenamento poi come hai detto tu io ho notato questo che per vedere i risultati cioè per vedere se poi un determinato lavoro funziona ci va tempo perché tu magari fai un lavoro nel match nel match dopo non lo vedi ma magari lo vedi due o tre match dopo perché ci va del tempo ci va del tempo per il ragazzo perché lo assimili ci va del tempo per perfezionarlo sul ragazzo perché magari su un ragazzo l'hai fatto in una maniera su un altro devi modificarlo un attimino per farlo suo e per arrivare poi a vedere risultati sul ring durante il miglioramento della prestazione io ho notato che ci va tempo e se non avete la costanza e quindi vi fate rubare vi fate attrarre dalla novità e poi l'altra rischiate di introdurre tante cose di non capire voi qual è quella che poi funziona e ricordatevi che quella che poi funziona la vedete solo nella performance agonistica se questo è il vostro obiettivo per questo ho detto prima se quell'esercizio se quel lavoro l'hanno fatto per il taekwondo e non dovevano andare a toccare probabilmente hanno dei gol diversi dei nostri quindi non è quello che noi dobbiamo andare a copiare magari anche a farci rubare da novità ma su sport o su allenamenti che abbiano affinità con quello che sono i nostri obiettivi e poi ribadisco ricordate sempre che l'unico giudice giustiziere che vi dà ragione torto è la performance che il ragazzo farà sul ring tutto il resto può essere la moda può essere la moda può essere il suggerimento può anche darsi che quel tipo di allenamento piace a voi e piace anche al ragazzo ma a me onestamente io non lo prenderei come valore per continuare a farlo o per investirci tempo quello che almeno personalmente io investo tempo energie mi ci spacco la testa e chiedo mi informo se ritengo che qualcosa possa funzionare e poi voglio la riprova cioè voglio la riprova nella performance se la performance mi dà ragione magari non me lo dà in un mese in due mesi ma me lo dà in sei mesi o in un anno come diceva Giuseppe ci vanno i suoi tempi ma me la dà e poi la mantengo inutile farsi raprire e passare un'altra minchiata perché l'avete vista e magari abbandonare una cosa che vi ha dato risultati se vi ha dato risultati è quella poi se vi piacciono gli elastici prendetevi per fare stretching per prendetevi per fare qualcos'altro o se c'è un'altra novità provatela per fare qualcos'altro provatela sui beginner che magari partendo da zero come dicevamo l'altro giorno noi magari rischiamo di non sbagliare ma su un atleta che ha portato dei risultati fate tesoro del lavoro che avete fatto quando avete ottenuto dei risultati perché lì è su quello che vi dà la conferma la riprova io perlomeno questo è il mio metodo io sai che non sono scientifico ma sono sono aperto e imparo tantissimo ogni volta che parlo con Giuseppe imparo qualcosa ma la mia conferma finale a me la deve dare il ring con la prestazione del ragazzo che ne pensi penso che sì concettualmente quello che dici è giusto ma da un punto di vista pratico poi è uno sport purtroppo siamo coinvolti in uno sport che è molto difficile o addirittura impossibile misurare quindi bisogna scendere ovviamente le valutazioni le valutazioni tecniche tattiche strategiche e anche quelle atletiche le valutazioni atletiche con alcuni test standardizzati ci possono dare indicazioni di dove sta andando la prestazione anche se la specificità di questi test standardizzati a volte lascia il tempo che trova ma è la cosa migliore che possiamo fare quindi piuttosto che niente è meglio usare dei trend che vengono da test che magari sono anche comparabili su diversi sport che ci indicano ci danno fiducia del fatto che l'allenamento che stiamo effettuando è corretto per quanto riguarda poi la prestazione olistica quella del match purtroppo bisogna ammettere tutti gli allenatori dovrebbero ammetterlo che diventa diventa un discorso più soggettivo diventa un discorso più soggettivo perché comunque inizia a valutare il tuo atleta in base a tantissimi fattori che tu non puoi controllare come può essere per esempio lo stato di forma dell'avversario il comportamento dell'arbitro diciamo il modo in cui i giudici stanno stabilendo i punteggi il modo in cui tu l'hai visto allenare negli ultimi giorni e tu ovviamente tendi in maniera inconscia a fare una valutazione che è molto soggettiva anche se tendenzialmente un allenatore che è molto esperto è in grado di avvicinarsi ad un giudizio che anche se soggettivo gli permetta di capire se c'è stato un miglioramento un peggioramento però è molto difficile proprio per il fatto che non abbiamo la fortuna di essere coinvolti in sport come può essere il nuoto o l'atletica leggera dove tutto è misurabile ci sono dei tempi certo ci sono dei tempi ci sono delle distanze e diciamo che spesso e volentieri i test atletici corrispondono anche alla prestazione sportiva di gara e è molto più semplice capire qual è la direzione che stiamo intraprendendo quindi a volte bisogna cercare di fare delle valutazioni che sono soggettive cercando comunque di avere dei criteri che ci ci fissano diciamo dei ragionamenti che facciamo per poter stabilire se l'atleta sta migliorando o peggiorando però ripeto quando ci si confronta in uno sport dove hai un avversario che comunque è imprevedibile per questo ho parlato di performance non ti devo dire abbiamo vinto abbiamo perso che quello vuol dire relativamente vuol dire tanto certo però parlando di performance non abbiamo i tempi come possono avere i record non abbiamo l'asta da superare che quella è una certezza perché se superi il record che hai fatto eccetera ma io ti assicuro che la performance del ragazzo stando all'angolo non guardando dal video e parlando e vedendo il ragazzo quando viene nella ripresa data ti accorgi ti accorgi se ha il fiato ti accorgi se i colpi sono più forti ti accorgi se ha più riflesso ti accorgi se ne ha meno ti accorgi di tantissime cose poi come hai detto tu ci sono delle variabili per cui puoi anche perdere no ma al di là di perdere o vincere rimani comunque in un contesto dove tu stai giudicando un atleta con un avversario ben specifico cioè tu non è che combatti sempre con la stessa per contro la stessa persona quindi magari contro quell'avversario hai avuto quelle sensazioni se fosse stato un avversario non lo sa nessuno quindi in un certo senso poi sono dei discorsi che non hanno neanche più senso perché tanto quando quei fattori non possono essere comparati tu capisci che poi ha quasi un non senso parlarne però credo che sia insomma sia si possa accettare che un allenatore diciamo un allenatore tecnico molto esperto abbia l'occhio allenato per poter almeno a grandi linee intuire anche se ci sono dei fattori di confusione che comunque creano diverse problematiche nell'interpretazione sia comunque in grado di giudicare la prestazione a livello olistico generale del ragazzo va bene ti ringrazio e dai avremo altri argomenti da trattare prossimamente fai bravo vivo la Muay Thai ti saluto dalla Thailandia dalla casa ma ci sarà caldo anche da 3 a Londra immagino no oggi no oggi a Londra ci sono soltanto 15 gradi però abbiamo anche noi giorni di caldo ogni tempo però avete sempre quella bellissima pioggia quasi tutti i giorni vero? quello si è molto bello il prato è sempre verde ti saluto ciao amici viva la Muay Thai fatti gravi ciao ciao